Ma io ve l'ho detto che siete tutti quanti degli artisti, questa cosa ve la voglio spiegare bene perché certe volte lo so, mi incarto. In realtà questo è il fondamentale tipo di ragionamento deduttivo della logica aristotelica, un sillogismo. Praticamente da una parte c'è una premessa maggiore, dall'altra c'è una premessa minore e al centro ovviamente c'è una conclusione. Vi faccio però un esempio che forse mi viene meglio. Se una fotografia è un'opera d'arte e se la street photography è un genere fotografico, noi street photographer siamo degli artisti. È più chiaro? Ok. Datemi un minuto per spiegarvi tutti quanti questi teatrini e prometto anche di farmi capire perfettamente. Ma prima però vi chiedo di iscrivervi al canale, accendere la campanella e commentare sotto con non do mance. È il primo che scopre l'innesso tra tutti quanti questi commenti. Si becca anche in regalo una bella maglietta di f4.0. Oh, è figa, vi potete fidare. Seguitemi fino alla fine del video perché oggi parliamo delle fotografie in silhouette e come farle al meglio, ma vediamo anche di capire perfettamente dove voglio arrivare con questo progetto f4.0. È semplice. Mi sono solamente rotto le palle di tutti quanti quelli che ci insegnano a fare street photography dimenticando la cosa più importante, esattamente chi siamo e che cosa vogliamo. Vi ho proposto delle sfide settimanali in cui vorrei continuare a coinvolgervi tutti semplicemente perché fare street photography è un po' come imparare a guidare. Si impara una cosa alla volta e soltanto dopo aver smesso di pensare a premere la frizione, mettere la prima, mollare il freno, tossare l'acceleratore, lasciare l'acceleratore, schiacciare la frizione, ingranare la seconda, premere di nuovo sull'acceleratore, guardare la strada, di nuovo la frizione, l'acceleratore la terza, l'acceleratore frizione quattro, l'acceleratore gira, 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 gira. Praticamente è un casino. E soltanto dopo aver perdoneggiato però tutte quante queste azioni che dopo un po' di esercizio ovviamente ci divengono naturali e spontanee possiamo guidare mentre con una mano stiamo fumando, con l'altra teniamo il cellulare, con gli occhi guardiamo i culi e allo stesso tempo pensiamo a come girare questo video qua. Diventiamo dopo un po' dei pirati della strada. Ecco, soltanto dopo esserci esercitati in tutte quante queste sfide di f4.0 potremo uscire con la nostra amata fotocamera e sentirci dei veri e propri pirati e essere sicuri perciò di non temere più il confronto con nessuno dei grandi guru che si sentono. Benvenuti signore e signori, oggi parleremo di una tecnica fotografica affascinante e sorprendente, le fotografie in silhouette. Sì perché creare un effetto silhouette in fotografia può davvero trasformare una semplice immagine in qualcosa di magico, di affascinante, in grado di catturare l'attenzione di chi sta guardando. La silhouette ha anche una storia che è particolarmente interessante. Risale al XVIII secolo quando era usata per riprodurre i contorni del viso in un'epoca storica in cui la fotografia neppure esisteva. Il termine silhouette deriva dal nome del ministro delle finanze francese Tien de Silhouette che era noto per la sua avarizia, una tenaglia insomma, che un giorno aveva chiesto di farsi fare un ritratto. Quel giorno era presente anche la Marchesa de Pompadour che alla dichiarazione del ministro gli aveva risposto, consigliando in maniera ovviamente sarcastica, di farsi riprodurre un ritratto che avesse soltanto dove si vedesse soltanto i suoi contorni del viso, per risparmiare appunto. E da allora il suo nome è passato ad indicare proprio chi spende poco, chi mangia poco, fino a indicare metaforicamente una corporatura sottile, longilinea, esile. E poi ancora è diventato il significato corrente che c'è nelle arti. Dalla seconda metà del Settecento poi si è sviluppata in Francia questo nuovo tipo di ritratto, tanto che proprio lì è stata inventata anche la macchina che permetteva di creare il silhouette. Era una macchina molto semplice, era costituita da un telo bianco posto sopra una specie di cavalletto da pittore attaccato a una sedia, dove si sistemava l'oggetto e il soggetto che si voleva ritrarre. Dietro questa figura c'era una candela oppure una finestra e il pittore si trovava dall'altro lato e doveva soltanto ridisegnare sul foglio bianco quello che veniva proiettato sopra. Pian piano poi questa usanza si è stesa anche in altri paesi europei e soprattutto in Inghilterra nel periodo napoleonico, dove la cultura francese si era imposta nella moda oltremanica e la silhouette è diventata quindi tipica del mondo anglosassone e si è trasformata in una variante povera del ritratto, cioè chi non aveva i soldi e non si poteva permettere un dipinto, si faceva fare una silhouette. Ma che cos'è che rende esattamente le immagini di silhouette così affascinanti e coinvolgenti? Innanzitutto la silhouette è un'immagine che ci mette di fronte all'essenziale, al contorno, alla forma pura e semplice delle cose. Ha una forte dimensione psicologica la silhouette, infatti ci mette di fronte alla capacità di cogliere le forme essenziali della realtà, di riconoscere il contorno delle cose e dei soggetti senza farci distrarre dal loro aspetto superficiale e questo ci invita proprio a riflettere sulla nostra capacità di vedere al di là delle apparenze, di andare oltre la superficie delle cose per scoprire il vero significato e la vera essenza di quello che stiamo guardando. Ma la silhouette è anche una immagine che ci invita a riempire le forme vuote con le nostre emozioni, con i nostri pensieri, i nostri sentimenti e a dare proprio sfogo alla nostra fantasia e alla nostra immaginazione e ci aiuta a stimolare anche la nostra creatività e la nostra capacità di vedere il mondo in maniera nuova. I grandi artisti sono quelli che impongono all'umanità la propria illusione. Ognuno di noi vive una realtà soggettiva del mondo perché il nostro cervello reagisce in modo unico alle esperienze di ogni giorno e un'opera artistica è proprio l'espressione della realtà di un altro individuo e visto che stiamo parlando di fotografia è il fermo immagine di un suo punto di vista del mondo. Ma l'arte però è incompleta senza il coinvolgimento percettivo e emotivo di chi sta guardando. E' proprio la parte ambigua dell'arte e quella cosa necessaria affinché l'artista, il fotografo nel nostro caso, possa passare il suo pennello, la sua matita all'osservatore e ricordatevi che l'immaginazione rimane sempre il pennello più potente. Addirittura sembra anche che l'apprezzamento di un'opera d'arte è direttamente influenzato da quanto l'osservatore possa e sappia partecipare al completamento dell'opera. Se qualcosa infatti è troppo definita, è troppo completa, il nostro cervello non si attiva. E' un po' come leggere una prosa anziché la poesia. Hai già fatto tutto tu e quindi io che devo fare? Cioè sì, ti metto like. E poi? Ecco, la silhouette, le fotografie in silhouette possono tanto, possono superare tutti questi ostacoli. La tecnica della silhouette ha un fascino intrigante e seducente. La mancanza dei dettagli all'interno della figura infatti lascia spazio alla fantasia di chi guarda, che diventa allo stesso momento attivamente coinvolto in questa fotografia. Possiamo quasi considerarlo una fotografia voglieristica, la silhouette crea proprio un legame intimo tra chi sta guardando e quello che viene guardato. E' una sorta di vedo e non vedo e lascia spazio proprio alla fantasia e alla partecipazione di chi sta osservando. Ma torniamo però alla tecnica fotografica, prima che questo diventi un canale di filosofia e non è quello che voglio. A questo proposito però vi chiedo di iscrivervi al canale e mettere nei commenti gli argomenti che vorreste che io trattassi in maniera più approfondita. Mentre invece se vi piace questa strada che stiamo percorrendo, beh, condividete, condividete, condividete questo video. Per creare un effetto silhouette dobbiamo posizionare il soggetto che vogliamo far apparire come una sagoma scura su uno sfondo di luce molto intensa ed esporre poi la nostra fotografia verso la parte più luminosa dell'immagine. In questo modo il soggetto apparirà sottoesposto e la sua forma prenderà le sembianze di una sagoma nera. Ma non è soltanto per una questione di tecnica che come vi ho detto è la cosa più facile da imparare perché per ottenere delle immagini di silhouette veramente interessanti dobbiamo allenare anche il nostro occhio a valutare la scena e scegliere il soggetto giusto, anche se quasi tutto può essere trasformato in silhouette. Questo perché ci sono dei soggetti che si prestano meglio di altri ad essere fotografati così, come per esempio il profilo di una persona che è particolarmente riconoscibile e ovviamente molto più interessante. Dobbiamo fare però molta attenzione anche a mantenere le forme distinte e ben definite della fotografia in modo che la silhouette sia facilmente leggibile. Ma non finisce qua, perché ci sono molte altre variabili da tenere in considerazione quando si fotografano silhouette, come per esempio la profondità di campo, la messa a fuoco e la scelta della luce. E proprio a proposito della scelta della luce, questa è fondamentale per creare un'immagine di silhouette che abbia un forte impatto emotivo. La luce di un tramonto o di un'alba per esempio danno a un'immagine un senso di calma, di serenità, quasi romantica, mentre invece una luce più fredda e più intensa può creare un'atmosfera più drammatica e per certi versi anche più coinvolgente. Ricordiamoci anche che la scelta della profondità di campo ci consente di ottenere delle immagini di silhouette con diversi livelli di dettaglio. Una profondità di campo più ampia ci permette di mantenere nitidi sia il primo piano che lo sfondo, mentre invece una profondità di campo ridotta ci consente di concentrarci sul soggetto principale, rendendolo ancora più imponente. Ma ricordatevi però, amici miei, che la perfezione si crea quando c'è la giusta dose di ambiguità, quando il bilanciamento tra l'espressione del fotografo e l'immaginazione di chi sta guardando la nostra foto lavorano insieme, creando così un'opera unica e diversa per ognuno di noi. La conoscenza è limitata e l'immaginazione che abbraccia il mondo. Ciao, alla prossima settimana.